Altri 62 soggetti positivi nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi dai 2.159 tamponi effettuati. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle ore 17 di mercoledì 8 aprile, in merito all'emergenza coronavirus. Dai dati comunicati dalla Regione Siciliana all'Unità di Crisi Nazionale, si apprende che dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 27.438. Di questi sono risultati positivi 2.159, mentre attualmente sono ancora contagiate 1.893 persone. 133 sono guarite, 133 decedute. Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti sono ricoverati, di cui 65 in terapia intensiva, mentre 1.265 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province, Agrigento 110, Caltanissetta 94, Catania 560, Enna 279, Messina 330, Palermo 286, Ragusa 49, Siracusa 84, Trapani 101.